Hai mai visitato la Francia? Se non l'hai ancora fatto ti consiglio di farlo perché non solo nelle grandi città ma anche nelle immense bellissime province ci sono dei castelli straordinari e se li hai visti e se ti sono piaciuti i giardini di quei castelli beh, sappi che li ha fatti un certo Pierre de Mercoglienne, all'epoca Catello Mazzarotta era un cittadino di proprio quella Mercoglienne, Mercogliano, oggi in provincia di Avellino ed è stato uno degli architetti e progettisti di giardini più importanti della storia in realtà mondiale quando Carlo VII invasi il regno di Napoli nel XV secolo portò con sé non solo una serie di bottini d'arte ma anche una serie di professionisti tra cui appunto il buon Pacello da Mercogliano non solo fu l'autore del Castello d'Ambois ma anche quello di Blois e una serie di altri palazzi nobiliari che fecero parlare e invidiare la Francia in tutto il mondo a Napoli invece era diventato molto famoso sotto la corona degli Aragona proprio perché fu lui l'autore dei giardini monumentali della villa di Poggio Reale che oggi non esiste più e che proprio impressionò Re Carlo VII quando venne a Napoli durante l'invasione a Napoli a Napoli a Napoli a Napoli